E una buona sera dall'orto! Allora, sono pronte scarole, insalate, un po' di bellissimi e dolcissimi rapanelli punta bianca, mentre per quanto riguarda spinaci, carote, cipolle e tanto altro è un pochino indietro a causa del tempo. Qua dietro di me abbiamo un po' di insalate, un po' di patate lì in fondo, cipolle e aglio e speriamo nel buon tempo. L'altro ieri ho trapiantato peperoni, zucchine e pomodori che sono qui e hanno subito una bella grandinata poche ore dopo il trapianto, per la loro gioia, però sembra che stiano reagendo abbastanza bene e vi terrò aggiornati qui.